Musica Ben trovati in questa edizione del TG6 La Settimana. Boom di turisti in Abruzzo in occasione di Pasqua e Pasqueta. Il mare e le città le mete più gettonate. E nonostante la crisi, gli italiani sono tornati a spendere come prima del Covid. Ascoltiamo il servizio. Lancette dell'orologio indietro fino al pre-pandemia durante le vacanze di Pasqua. Queste feste sono state le prime da quando il Governo ha deciso l'avvio del percorso di allentamento delle restrizioni e gli italiani sono tornati a spendere, benché due anni di crisi e gli attuali rincari su energia e beni di prima necessità pesino sulle tasche dei consumatori. Tanti turisti in Abruzzo. In media ogni famiglia ha speso 69 euro per la sola domenica di Pasqua, il 25% in più rispetto allo scorso anno e quanto emerge da un'analisi di Coldiretti che registra numeri simili a quelli del 2019. Gli italiani in viaggio verso casa sono oltre 11 milioni. Di questi il 95% è rimasto tra i confini nazionali, uno su tre nella propria regione di residenza. Le mete più gettonate sono state il mare e la città, destinazioni queste scelte dal 32% di turisti. Sulla costa abruzzese il weekend appena trascorso ha rappresentato per molti lidi una prova generale della stagione balneare 2022. Tra pranzi e feste con musica e riva al mare si è registrato il tutto esaurito, nonostante il forte vento. Boom di turisti anche all'Aquila. Migliaia ieri le persone che hanno visitato il capoluogo, rifocillate dallo street food nel parco del castello, organizzato per l'occasione. Turisti soprattutto da Pescara e da Roma, ma anche da Veneto, Lombardia e Germania, che hanno usufruito dei percorsi attivati dall'info point del comune. Ci aspettavamo un turismo mordi e fuggi, ha commentato l'assessore Fabrizio Aquilio. Invece siamo stati sorpresi dall'interesse e alla conoscenza a 360 gradi del nostro territorio. Ma non solo mare e città. Un turista su cinque quest'anno ha scelto la montagna. Il 17% è andato in campagna. Campo imperatore si è acceso di fornacelle e in tanti hanno voluto approfittare della nevicata di Pasqua per le ultime discese in sci. Ieri impianti di risalita aperti, sole splendente e 600 passaggi in funivia nella stazione sciistica di Campo Imperatore sul Gran Sasso d'Italia. Continuano ad arrivare sciatori da fuori regione, soprattutto dalla Puglia, ha detto il gestore degli impianti Dino Pignatelli. Contiamo di allungare la stagione per tutto il ponte del 25 aprile per portarla a conclusione il primo maggio. Un Abruzzo a Pasqua e Pasquetta vissuto a tutto tondo, anche in canoa o in mountain bike. Nella sola giornata di ieri, al Lago di Penne, ci sono state oltre 250 escursioni. Ora albergatori, ristoratori e operatori turistici guardano con ottimismo ai prossimi festivi appuntamenti, quello del 25 aprile, del primo maggio, ma soprattutto all'estate, che dovrà essere motore della ripresa economica del territorio. A distanza di una settimana dal brutto episodio che ha visto coinvolto Yelfri Guzman, il fine settimana pescarese è stata nuovamente segnato dalla movida violenta. Vediamo. Lo spiacevole episodio che ha visto protagonista sabato sera un minore romano ferito con un pugno allo zigomo è l'ultimo in ordine di tempo di una movida sempre più discussa in città. Nel periodo emergenziale del Covid io ho messo in atto dei provvedimenti che gli esercenti hanno molto contestato, però mi sembra che quei provvedimenti in qualche modo hanno contenuto la situazione difficile. Noi non dobbiamo mai dimenticare che cosa è successo nei primi anni 2000 nel centro storico. Si sono create situazioni tali per cui il centro storico è finito proprio perché la gente non ci andava più volentieri perché c'erano situazioni di crisi, c'erano presenze ingombranti, fastisiose, pericolose e la mia paura è che questa stessa cosa si verifichi nel centro della città. C'erano le forze dell'ordine che sono intervenute e quindi non si dica che Pescara non è una città in cui non ci sono le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine ci sono. Certo che quando ci sono 20.000-30.000 persone in uno spazio ridotto tutte le situazioni esplodono. Il sindaco Carlo Masci nel giorno di Pasqua tramite i social ha difeso gli imprenditori del settore ribadendo però tolleranza zero verso chi verrà meno alle regole. Certo non è possibile che ci sia chi vende alcol ai minorenni perché questo purtroppo è successo. Queste persone avvelenano una generazione e noi non possiamo e non dobbiamo permetterlo. Così come c'è gente che ha un locale di 20 metri che all'interno non può ospitare nessuno e poi pretende di avere spazi all'esterno. Quindi ci sono delle cose da risolvere e noi le risolveremo. Capiremo anche se è possibile aggravare delle sanzioni per colpire chi sbaglia. Ma chi pensa di approfittare di Pescara e di danneggiarla può cominciare ad andare via. Il sindaco è nuovamente pronto all'ascolto ma chiede alle associazioni un patto per Pescara che possa garantire un equilibrio in città. Per la movida di Pescara io voglio ragionare e sono contento se le associazioni, ma lo fanno costantemente, vogliono ragionare con me per trovare delle soluzioni e ovviamente andando a trovare soluzioni non alimentando situazioni negative. I commercianti e residenti del Comitato Salviamo Viale Marconi hanno effettuato un sit-in sotto al palazzo di Città a Pescara. Vediamo. Dopo la protesta del 26 marzo scorso che vide commercianti e residenti di Via Marconi sfilare in corteo per chiedere la modifica del progetto che riguarda la più importante arteria cittadina, questa mattina gli aderenti al Comitato Salviamo Viale Marconi hanno effettuato un sit-in sotto alla sede di Palazzo di Città in Piazza Italia. La richiesta è sempre la stessa, modificare il progetto e trovare posti auto nella zona più importante del capoluogo adriatico. Viale Marconi fondamentalmente, se mi permette di dire, fa schifo. Fa schifo perché non è fatta per un'utenza debole. Allora, quando tu fai una strada e non la progetti prima per un'utenza debole, c'è per un portatore di handicap, per un anziano, per un bambino, per un disabile, c'è per quella fascia più debole, vuol dire che stai facendo qualcosa contro l'umanità. E Via Marconi non è fatta per favorire l'utenza debole, è fatta per far passare i pullman velocemente e basta. E questo non è compatibile con il vivere cittadino di una città. Insomma, non se ne può parlare. Quando sono fatti male gli attraversamenti pedonali o non sono fatti proprio, c'è una doppia striscia continua e quindi un bambino dovrebbe attraversare di là senza la possibilità di usare un semaforo, senza la possibilità di avere un'isola salvagente. Cioè, non ne possiamo parlare. Cioè, nasce un progetto proprio all'opposto di quello che dovrebbe essere. Abbiamo provato più volte a avere questi incontri con l'amministrazione, ma è stato impossibile avere un confronto costruttivo. E quindi per la seconda volta, questa volta in modo più allargato, perché non parliamo solo di Via Marconi, ma parlano tutti gli esercenti della città di Pescara, da nord a sud, in quanto Pescara è una città che nasce e si sviluppa sul commercio. Tutte le politiche che possano essere da questa amministrazione sono anticommerciali. E quindi noi chiediamo che vengano poste in essere delle politiche che aiutino il commercio a rimanere in piedi, perché dopo due anni di pandemia c'è da dire che c'è bisogno di un supporto. Invece vediamo che qualunque tipo di mossa che il Comune sta portando avanti sta andando contro gli esercenti di Pescara. Studenti del Galilei, sentinelle di civiltà nel progetto, in collaborazione con carrozzine determinate. Alcuni ragazzi hanno attraversato la città di Pescara in carrozzina per toccare con mano le difficoltà che quotidianamente sopportano le persone con disabilità. Vediamo. L'obiettivo è quello di abbattere i muri della discriminazione, oltre che demolire le barriere architettoniche. E si è partiti proprio dai giovani del liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara che da oggi potranno freggiarsi del titolo di sentinelle della civiltà. Il progetto, promosso dall'ufficio di Sabili del Comune di Montesilvano e dal suo responsabile Claudio Ferrante, nel duplice ruolo anche di presidente dell'Associazione Carrozzine Determinate, ha coinvolto questa mattina 53 alunni delle classi terza e quarta del liceo pescarese. Il là al progetto è stato dato ad ottobre, quando le due classi hanno avuto modo di riflettere sul concetto di felicità da un punto di vista inedito ed inatteso, per poi lasciarsi ispirare dall'esperienza condivisa con i collaboratori dell'Associazione. Nella giornata di oggi, i giovani, partendo dalla sede del liceo di Via Vespucci, si sono messi invece alla prova con l'esperienza empatica che li vuole direttamente su strada. Alla guida di carrozzine, provando direttamente sulla loro pelle le difficoltà di ogni giorno tra marciapiedi senza rampe, radici prominenti e dislivelli eccessivi. Oggi i ragazzi del liceo scientifico di Pescara sono diventate sentinelle della civiltà. Ora faremo questo esperimento, questa esperienza empatica in carrozzina, per dimostrare che cosa? Che la disabilità non è una malattia, ma una condizione di salute in un ambiente sfavorevole. Quindi è l'ambiente a creare disabilità, non altro. E quindi i ragazzi immediatamente proveranno, toccheranno con mano il significato di un gradino di 5 centimetri, un muro, una salita, e praticamente tutto ciò che tende a imprigionare la persona disabile. Noi siamo nelle scuole, ci siamo apposta, questo progetto meraviglioso che abbiamo scritto e lo stiamo portando in tutte le scuole, non solo da Abruzzo, ci viene richiesto veramente da tutta Italia, è un progetto meraviglioso pedagogico che prende in considerazione proprio un fatto molto semplice, che se ci pensiamo bene siamo tutti disabili, perché lo siamo perché non siamo in grado tutti di fare qualcosa, e quindi nel nostro piccolo lo siamo davvero tutti. E questo è importante, perché così poniamo all'attenzione la persona, l'essere umano e non più il problema, perché poi entra immediatamente il pregiudizio, quello che colloca la persona disabile nel diverso. I ragazzi sono stati meravigliosi, perché abbiamo già fatto un primo passo con loro in classe e hanno capito perfettamente tutto questo. E' arrivata a Teramo la teca contenente ciò che resta dell'auto del giudice Giovanni Falcone, ucciso insieme alla sua scorta 30 anni fa a Capaci. Le lamiere del quarto Savona 15 sono state esposte in piazza Martiri per un momento di riflessione collettiva. In occasione del trentesimo anniversario delle stragi di Capaci di Via D'Amelio, torna in esposizione a Teramo nella sua drammaticità, la teca contenente i resti della Fiat Croma, conosciuta come quarto Savona 15, l'auto di scorta di Giovanni Falcone, fatta esplodere in Sicilia nel 1992. E' un groviglio di macerie, visibile a tutti in piazza Martiri, quello che resta della vittura del magistrato ucciso dalla mafia e dentro la quale morirono dilagnati i tre agenti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Quarto Savona 15 rappresenta il simbolo della crudeltà mafiosa, ma anche quello della denuncia civica. L'evento, sostenuto dal comune di Teramo, rientra nel quadro delle cerimonie del premio nazionale Borsellino, realizzate in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati Abruzzo e la Polizia di Stato. Per l'occasione, presenti in città, alcuni testimoni di legalità, tra i quali Tina Montinaro, moglie di Antonio, caposcorta del giudice Falcone, assassinato insieme a lui. È stata proprio lei a recuperare i resti dell'auto, custoditi per anni nei depositi della questura di Palermo e a volerli esporre in ogni città italiana. Agli studenti intervenuti all'iniziativa, il sindaco di Teramo, Gian Guido d'Alberto, ricordando il trentennale degli omicidi dei giudici Falcone e Borsellino e delle loro scorte, ha ribadito la necessità della lotta alla cultura mafiosa, che non deve essere circoscritta ad un territorio, ma deve essere fatta propria dall'intero paese. Grande la partecipazione emotiva dei giovani teramani. Sono rimasta sconvolta dai livelli di cattiveria e fino a che punto si possa spingere una persona per riuscire a zittire qualcuno che stava semplicemente combattendo per la giustizia. Lottare alla mafia è molto importante perché noi non dobbiamo arrenderci contro chi prova a combattere e ricattare gli altri attraverso la paura e intimorendo gli altri, ma bensì dobbiamo essere forti e dobbiamo opporci a questi bulli che comunque cercano di incutere timore per usare i deboli per arricchirsi ancora di più. È ovviamente importantissimo lottare contro la mafia anche a costo di andare contro alla maggior parte delle persone e di essere chiamato pazzo come è successo a Falcone e Barsellino ma anche a Peppino Impastato. Numeri positivi per il turismo abruzzese a Pasqua in linea con il trend nazionale. Un buon segnale come spiega il presidente della CNA Turismo Abruzzo Claudio di Dionisio. Ascoltiamo. Turismo abruzzese sulla stessa lunghezza d'onda di quello nazionale con buone aspettative dopo la settimana di Pasqua anche per il weekend del 25 aprile e la festa del primo maggio. Lo dice un'indagine condotta da CNA Turismo Nazionale tra i propri associati che ha messo a fuoco le tendenze registrate nelle varie regioni d'Italia tra cui l'Abruzzo. Numeri positivi anche per la nostra regione come sottolinea il presidente regionale di CNA Turismo di Dionisio. Turismo abruzzese in grande spolvero così come testimoniato dall'indagine commissionata dal CNA in linea con i dati nazionali. Anche l'Abruzzo ha beneficiato di questi ponti di queste feste aprile e maggio per ricevere tantissimi clienti anche dall'Europa che hanno scelto di visitare la regione in funzione anche del fatto che ben si presta per essere scoperta con un turismo slow con un turismo naturalistico con un turismo legato ai parchi ai nostri borghi alle nostre città d'arte e al turismo esperienziale. CNA Turismo Abruzzo ha investito tantissimo negli ultimi anni in questa voce il turismo esperienziale il turismo legato alla bicicletta ai cammini e alle esperienze che la nostra regione naturalmente può offrire. Siamo una regione evocata a questo tipo di ospitalità e nei prossimi anni sempre di più riceveremo i benefici di questa scelta perché chiaramente l'Abruzzo è una regione da scoprire con questa tipologia di esperienze proprio perché per come è ubicata e per come è il territorio ben si presta per essere conosciuta in questa versione. sono concluse le indagini preliminari della procura di Teramo riguardo strada dei parchi S.P.A. e la mancata manutenzione dei viadotti è stato chiesto il processo per alcuni degli indagati i quali dovranno rispondere di inadempiamento di contratti di pubbliche forniture e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti. Potrebbero andare a processo alcuni tre vertici di strada dei parchi il procuratore di Teramo Ettore Picardi ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio e ora la palla passa nelle mani del giudice l'inchiesta è quella portata avanti a novembre 2020 dalla Guardia di Finanza Teramana che a seguito di alcuni esposti ha indagato sulla gestione delle A24 e A25 in adempimento di contratti di pubbliche forniture attentato alla sicurezza dei trasporti e abuso d'ufficio erano questi i reati contestati a sei persone che avevano ricoperto ruoli apicali all'interno della società concessionaria del gruppo Toto bersaglio della polizia economico-finanziaria anche due società collegate cade definitivamente l'ipotesi di abuso d'ufficio per cui la procura ha richiesto l'archiviazione il pubblico ministero contestava l'assegnazione dei lavori sulle autostrade alla Toto Costruzioni in quanto si riteneva superato il limite di legge del 60% del valore di concessione per l'ammontare dei lavori affidati a società collegate già un anno fa la Cassazione aveva dato ragione a strada dei parchi decretando il dissequestro degli oltre 21 milioni di euro confiscati restano in piedi gli impianti accusatori per gli altri due reati contestati ovvero l'inadempimento dei contratti e l'attentato alla sicurezza per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio valutate le memorie difensive la procura ritiene possano esserci responsabilità per la mancata manutenzione dei viadotti autostradali le indagini infatti avevano evidenziato l'ammaloramento del calcestruzzo e delle canaline di raccolta dell'acqua nonché la grave ossidazione dei ferri delle armature esposti a vento e pioggia la situazione dei sette viadotti teramani della A24 si leggeva nel comunicato della guardia di finanza è stata causata dalla totale inadempienza dal 2009 ad oggi degli obblighi di manutenzione ordinaria sulle opere d'arte discendenti dall'atto concessorio gli unici lavori svolti secondo i militari erano quelli su aiuole segnaletica utilizzando peraltro contributi statali dal proprio canto strada dei parchi ha sempre ribadito in fondata la presunta pericolosità delle infrastrutture richiedendo anche un incidente probatorio ciò non basta però placare la bufera sulla società del gruppo Toto che sotto inchiesta anche a Pescara Sulmona e l'Aquila a Sulmona si è già al processo nell'udienza del mese scorso il GUP ha deciso che sarà un'ulteriore perizia a stabilire le reali condizioni dei 16 viadotti del territorio gli imputati sono il consigliere di amministrazione della holding del gruppo Toto Cesare Ramadori all'epoca dei fatti amministratore delegato di strada dei parchi della quale oggi è presidente e poi Igino Lai responsabile di esercizio di strada dei parchi e Gianfranco Rapposelli amministratore delegato di Infra Engineering altra società del gruppo specializzata nella progettazione Inaugurato a Teramo la 32esima fiera dell'agricoltura sono oltre 200 gli espositori del settore che partecipano all'evento collocato quest'anno per la prima volta lungo il parco fluviale la fiera si concluderà lunedì 25 aprile taglio del nastro delle autorità e benedizione del vescovo Leuzzi è iniziata così la 32esima fiera dell'agricoltura di Teramo 200 espositori tra produttori associazioni no profit attrezzi agricoli piccoli animali mercati contadini piante fiori e gastronomia senza dimenticare i convegni a tema il tutto in uno spazio nuovo dove mostrarsi il parco fluviale il polmone verde della città tanti espositori tanti espositori pari probabilmente a quelli dello stadio Bonolis circa 200 con una differenza sostanziale però che questi espositori sono tutti centrati sulla fiera dell'agricoltura perché eravamo abituati a una fiera dove c'erano delle esposizioni un po' miste quindi abbiamo cercato di fare un lavoro di pulizia con il comitato fiera poi l'estensione l'estensione del parco che è superiore a quella dello stadio Bonolis con tanti spazi verdi da utilizzare oggi è la giornata della terra abbiamo deciso di inaugurare quella che per noi è la nuova fiera dell'agricoltura proprio in questo giorno tutta la convenistica sarà centrata sulla sostenibilità è un segnale forte che vogliamo dare come amministrazione per la fiera dell'agricoltura di quest'anno e per quelle che arriveranno l'agricoltura l'agricoltura come mai oggi rappresenta una delle risorse economiche più importanti per il paese Teramo vanta una tradizione antica nella coltivazione di grano e orzo che mezzi espone in questa fiera? io espongo macchine e trattori d'epoca si usavano anni 50 40 anche 30 sono delle vecchie trebbiatrici praticamente si doveva trebbiare davanti all'aia del contadino si faceva il mucchio di grano di paglia invece adesso ci sono le vecchie trebbi che vanno direttamente nei cambi oggi le cose sono un po' cambiate ma del tutto e alla fiera dell'agricoltura non poteva mancare l'istituto agrario di Teramo il di Popparozzi che ha presentato l'autostrada delle api un progetto green dedicato al ripopolamento di questi preziosi animali questo progetto in effetti prevede un'autostrada chiamata proprio così perché è un corridoio praticamente dove le api e tutti gli insetti impollinatori possono trovare ristoro ed è un'autostrada molto lunga perché abbiamo pensato di partire dal mare fino alla montagna da Giulianova fino a Isola del Gran Sasso come si costruisce questa autostrada? creando delle oasi lungo il percorso in maniera particolare a Teramo saranno posizionate delle casette di vetro e legno all'interno delle quali ci saranno delle arnie gli organizzatori dell'evento prevedono in questi giorni almeno 50.000 visitatori provenienti da diverse regioni la fiera dell'agricoltura di Teramo si concluderà lunedì 25 aprile sabato al museo delle genti d'Abruzzo a Pescara a margine dell'incontro pubblico dedicato all'agroalimentare in Abruzzo Vincenzo Di Sabatino è stato eletto al vertice di Fedagri Pesca la federazione nazionale delle cooperative agricole agroalimentari e della pesca Fedagri Pesca ha eletto questa mattina a Pescara i suoi vertici regionali neopresidente Vincenzo Di Sabatino eletto nel corso dell'assemblea che si è tenuta a Pescara presso il museo delle genti in Abruzzo Fedagri Pesca conf cooperative è espressione di 10.000 soci che operano attraverso 54 imprese cooperative con 400 milioni di euro di fatturato siamo stati appena eletti per una consigliatura con una squadra che apporta nuove professionalità all'interno del sistema di conf cooperative la mission sarà quella di cercare di accompagnare l'agricoltura abruzzese verso nuovi scenari l'Unione Europea ci chiama ad essere interpreti di un cambiamento transizione verso un modello nuovo modello così banalmente denominato di economia circolare un modello che prevede l'utilizzo di un sistema che porta non più al vecchio sistema di economia lineare dove dalla produzione si va al consumo e al rifiuto ma ad un sistema ad un modello diverso dove dalla produzione si passa al consumo e al riuso della materia prima non utilizzata dal consumatore questo è il processo di transizione il modello è quello dell'economia circolare nel nostro piccolo cercheranno di accompagnare le imprese cooperative abruzzesi verso questi modelli di sviluppo e scenari di sviluppo che non sono così semplici da mettere in campo in quanto comunque la sostenibilità ambientale deve essere innanzitutto sostenibile dal punto di vista economico quindi con molta attenzione verso il raggiungimento di equilibri economici che sono la base per ogni attività di impresa una nuova manifestazione contro i rincari dei pedaggi e per la sicurezza delle autostrade gestite da strada dei parchi per questo i sindaci sono tornati a presidiare i caselli autostradali tra Lazio e Abruzzo mentre si attende che il ministro giovanini riferisca in Parlamento vediamo Inchieste giudiziarie e processi in corso perizie sui viadotti e manutenzione mancata costi dei pedaggi alle stelle e nessuna risposta la bufera su strada dei parchi S.P.A. mette in allarme i territori attraversati dalle A24 e A25 questa mattina sindaci e parlamentari sono tornati a presidiare i caselli autostradali manifestazioni simultanee in 12 caselli tra Lazio e Abruzzo per chiedere sicurezza sulle infrastrutture e scongiurare l'aumento dei costi di percorrenza Siamo qui per dire no agli aumenti e sì alla messa in sicurezza di autostrade che necessitano di lavori urgenti perché in questo modo queste autostrade sono difficilmente percorrime Una battaglia politica trasversale il ministro dei trasporti Enrico Giovannini è stato sollecitato dai diversi schieramenti parlamentari a riferire in aula e ora si attendono soluzioni prima del rincarro del 34% che scatterà dal primo luglio inoltre nella bozza del piano economico finanziario redatta dal commissario nominato ad hoc sono previsti alla voce entrate aumenti del 375% entro il 2030 sono aspetti un po' inquietanti me ne assumo la responsabilità di questa parola perché va chiarito immediatamente e da quando si è insediato il presidente Marsili c'è una lunga e una fitta corrispondenza con il ministero dei trasporti e con i vari ministri che si sono avvicendati nel corso del tempo però non c'è una risposta l'Abruzzo così rischia di ritrovarsi isolato scontando un gap infrastrutturale con le altre regioni l'autostrada infatti è l'unico efficace collegamento con la capitale e il rincaro dei costi di percorrenza è destinato a ripercuotersi su trasporto merci pendolari e turisti mandando a monte gli sforzi della giunta regionale volti a potenziare il traffico est-ovest questa arteria oggi è l'unica e deve essere garantita al pari delle altre così come è stato fino a qualche anno fa e inoltre si sta lavorando come ha detto lei bene sul discorso del raddoppio ferroviario sul discorso di incidere in maniera importante sul percorsi da pescare a Roma perché non è possibile che oggi un treno da pescare a Roma impieghi 5 ore quando con la macchina tu la fai in un'ora e un'ora e mezza è prevista per il 7 maggio una nuova manifestazione ma questa volta a Roma davanti al ministero se non dovessero giungere rapide soluzioni la nazionalizzazione dell'autostrade è una questione che Fratelli d'Italia potrebbe considerare seriamente sicuramente sì adesso parliamo di calcio di serie C andiamo a vedere come sono andati gli ultimi 90 minuti per Pescara e Teramo nella stagione regolare vediamo il Pescara pareggia per 2-2 con Limolese chiude la stagione regolare al quinto posto i Biancazzurri nei play-off scenderanno così in campo all'Adriatico il primo maggio con la Carrarese per Limorese ci saranno i play-out come previsto in attesa di capire se ci sarà invece la restituzione dei due punti di penalizzazione mani nel complesso i Biancazzurri che non solo non agganciano il terzo posto ma perdono anche la quarta piazza a beneficio della Virtus Centella fischi dei 3.000 presenti all'Adriatico al 91esimo Zau rimanda in campo la sua squadra con il 4-3-3 in difesa dopo tempo si rivede in zita mentre a centro campo dopo la squalifica torna a Delisio per il resto formazione annunciata gli ospiti rispondono con il 4-3-3 per l'ex Belloni a sorpresa c'è la panchina si parte su ritmi blandi nella fase di studio con le due formazioni che non forzano al sedicesimo Clevenza in area di controbalzo conclude con la parata di Santo Padre un minuto dopo Lombardi in area abruzzese a due passi da Sorrentino conclude malissimo graziando la difesa abruzzese che rischia anche sul proseguimento dell'azione con il missile di Dalena che fa terminare la sfera di un soffio a lato meglio la squadra di Fontana al cospetto di un delfino molle si agita il tecnico del Pescara Zauri dalla panchina per provare a scuotere i suoi ragazzi gli ospiti giocano bene al ventisettesimo passano in vantaggio con Liviero che in area con una pregevole rovesciata mette la palla alle spalle di Sorrentino per la rete dello 0 a 1 male i biancazzurri con il solo Clemenza che sembra crederci al trentatresimo doppia opportunità pescarese prima con Ferrari che in area trova la risposta del portiere ospite e poi con Pompetti che alza sopra la traversa il pareggio del Pescara è però nell'aria e arriva al trentasettesimo con Dursi che crea con Clemenza che non sbaglia siglando di testa la rete del pareggio il primo tempo si chiude qui nella ripresa pronti via i biancazzurri al primo minuto in vantaggio con Pompetti che su assist ancora di Dursi fa 2 a 1 riportando il Pescara in vantaggio e al quarto posto grande esultanza per il biondo centrocampista con il Delfino che mette così la freccia dopo essere andato sotto ora si vede un altro Pescara che attacca non pago del vantaggio di misura appare invece in difficoltà la squadra di Fontana anche se al tredicesimo Lombardi chiama Sorrentino al salvataggio in calcio d'angolo al quattordicesimo si infortuna Drudi che viene sostituito dagli Anes la gara resta aperta visto che dopo aver tenuto bene al ventitresimo gli ospiti pareggiano con la rete di testa di Angeli sugli sviluppi di un calcio d'angolo 2 a 2 il punteggio il Pescara però non ci sta con Pontisso prima e Dursi poi che mancano il 3 a 2 e con le emozioni che si susseguono senza sosta visto che al ventottesimo Clemenza in una classica azione di contropiede colpisce un palo clamoroso si resta così sul risultato di parità quando si entra nell'ultimo quarto d'ora di gara con le due formazioni che si allungano anche per via della stanchezza e con l'undici di Luciano Zauri che spinge anche se in maniera piuttosto disordinata alla ricerca del 3 a 2 che non arriva e con Cernigoi che al 39 manca il colpo per il nuovo vantaggio la gara dell'Adriatico finisce sul risultato di parità e per il Pescara è un pareggio amaro il primo maggio si tornerà in campo ma occorrerà ben altra prova per superare il primo turno dei playoff una sconfitta in dolore la reggiana passa 2 a 0 al Bonolis ma è grata non basta per festeggiare la B il diavolo invece il suo obiettivo lo aveva centrato già prima di Pasqua e quella con la seconda della classe è stato un appuntamento servito solo a salutare lo stadio di casa il pallino del gioco come era ampiamente prevedibile tutto reggiano la squadra di Diana vorrebbe mettere pressione al Modena e va vicino al vantaggio con Zamparo che danza in area e stampa il sinistro sull'incrocio dei pali Teramo ordinato in difesa ma che fa fatica a ripartire Schaudone al diciannovesimo tenta con la conclusione dalla distanza alta sopra la traversa destino simile per Luciani che sfrutta la battuta di un corner di Rosafio destro volante al lato non di molto il diavolo si vede per la prima volta al trentanovesimo con la discesa di Jacoponi che chiude il triangolo con Aziosmanovic ma spara debolmente verso Venturi Teramo che reclama per il contatto Bernardotto Cremonesimo un Aldi estrae il giallo tra le proteste del Bonolis ma al quarantatresimo la reggiana cala il gol del vantaggio Libutti recupera su Mordini a destra innesca il tuffo di Cigarini che batte Perucchini proprio sotto gli oltre 800 sostenitori della reggia giunti in Abruzzo l'avvio di ripresa con Forgione da Andrea per Rosso e Malotti non cambia Perucchini si supera prima su Zamparo di testa poi sempre di testa su Caos imbeccato da Rosafio le notizie che arrivano dal Braglia però non sono positive ma la reggiana insiste con Schaudone liberato da un regalo di Codromat spallone a lato poi si va dal potenziale 1-1 allo 0-2 nel giro di un minuto il liscio di Cremonesi in area spiana la strada ad Andrea il tap-in centra il palo interno col pallone che termina tra le mani di Venturi scampato il pericolo Rosafio lanciato sul filo del fuorigioco Collob supera Perucchini e chiude il match anche perché la diagonale di Zamparo e la testa dell'entrato Porcino non cambiano i destini di un match che alla reggiana serve solo per arrivare nel miglior modo possibile ai play-off per il Teramo invece obiettivo raggiunto e stagione chiusa ora vacanze meritate ma la partita più importante inizia da domani in poi Con questa notizia termina l'edizione del TG6 la settimana grazie di averci seguito buon proseguimento Grazie a tutti